La TAT è esposto a un attacco, convergere su di esso, il camminatore ci sta puntando, colpiamolo mentre è ancora vulnerabile La TAT è esposto a un attacco, convergere su di esso, il camminatore ci sta puntando, colpiamolo mentre è ancora vulnerabile Abbiamo attivato la stazione a Flink, ben fatto Abbiamo attivato la stazione a Flink Bala Y pronto Bala Y pronto Stazione a Flink in funzione, sequenza da gancio alla Y interrotta, dobbiamo riattivare la Flink Avete sconfitto l'imperatore Speriali in arrivo In posizione Il camminatore è puntato dal nostro bombardiere Alla Y in arrivo Il camminatore è indifeso Dobbiamo un attacco orbitale La TAT è indifeso Toll'istaino A clau A clau Grazie.